Io non voglio fare polemiche, qua c'è la città, c'è il sindaco, c'erano tutte le autorità, bisogna evitare di costruire il rancore all'incontrario. Oggi c'è tutta la città antifascista, antinazista, che si riconosce nei valori della Costituzione, libertà, uguaglianza, giustizia e fratellanza. Se ci sono dei problemi personali non è questa la giornata per manifestarli. Qua c'è la Napoli che si è schierata. Vorrei ricordare a tutti, mostrando il dito, che questa amministrazione, quindi con la maggioranza che la sostiene, ha avuto il coraggio rispetto ad altri che magari erano molto più sostenuti a parole da chi protesta nel cambiare questo luogo. Da Gaetano a Zariti, che era un magistrato, a Luciana Pacifici, bimba ebrea. Quindi noi rispettiamo tutti, ma oggi chi non c'è ha torto, perché è la giornata della città. Qual è il messaggio che vogliamo dare ai giovani che lei stamane ha anche incontrato? Che questa è la città delle quattro giornate. La prima città d'Europa che si è liberata da sola dal nazifascismo con le quattro giornate di Napoli del 43, con una rivolta di popolo a cui ho detto ai ragazzi parteciparono pure bambini, tra cui Gennarino Capozzo. Quindi questa città non prenderà mai la via della barbarie nazista, del collaborazionismo fascista, perché questi valori fanno parte delle radici della città di Napoli. Chiaramente vanno innaffiate le radici, le radici si innaffiano con la memoria ed è per questo che è una giornata importante, perché altrimenti si rischia la narcotizzazione, l'indifferenza, il mescolare e dire che i fascisti sono uguali a quegli altri. Non è così. Io credo che bisogna ricordare quello che è stato, perché anche Primo Levi ci ha insegnato che fuori di noi può accadere in ogni momento se non c'è una coscienza vigile e di questi tempi purtroppo ci sta ancora chi alimenta e soffia verso una subcultura antisemita, che vede il diverso come un pericolo, che fa consenso politico sulla caccia al nemico, quindi noi siamo molto preoccupati ed è per questo che veramente le polemiche sono davvero pretestuose, mi dispiace dirlo, se qualcuno confonde certe volte una polemica che si fa a un determinata politica di un determinato governo non significa che sei contro un popolo o sei soprattutto indifferente rispetto alla tragedia che c'è stata dell'olocausto. Come dire, è come se uno oggi si mette a criticare Trump e vuol dire contro gli americani, ma chi se lo sognerebbe di dire? Per me Trump è un pessimo Presidente della Repubblica americana, ma comunque gli americani sono un grande popolo, come qualche volta abbiamo criticato anche i nostri governanti, quindi come dire che nessuno si permetta di dire che questa amministrazione e questa città non è schierata, quindi chi non c'è a torto.